Di giornata produttiva non mi sono fermata un attimo, mi sono svegliata presto perché stanotte non ho dormito bene ovviamente mi sono lavata il viso e ho cominciato a prendere degli impegni per tutte le settimane che come vi dicevo nel video di youtube mi aiuta molto questo planner a organizzare un po' tutto poi mi sono fatta una doccia senza capelli e mi sono preparata al pranzo ho fatto l'arista con le miele e se vi vuole interessare vi faccio la ricetta, è una cosa molto molto buona successivamente mi sono truccata, oggi ho fatto un trucco molto molto soddisfacente, mi è piaciuto molto mi sono vestita così e poi ho fatto un sondaggio sulle storie dove chiedevo quale scarpa ci stesse meglio poi appunto sono andata all'università, ho seguito una lezione di 3 ore e qui stavo tornando a casa per avere il mio date con il mio ragazzo gli facciamo mano a Emi, siamo andati da Temagini, abbiamo mangiato tantissimo sushi, infatti sto esplodendo così siamo noi usciti dal ristorante belli pieni, se vi va a seguire i musici